L'arco classico è importantissimo per suonare il periodo classico. Il musicista attraverso questo attrezzo, questo strumento, perché è sempre uno strumento, gestisce tutto il frasseggio dell'interpretazione. Come vibra questa vacchettina di legno incide direttamente sulle articolazioni, i giochi dinamici, il colore timbrico, che è quello che rende così speciale lo strumento d'arco. Il musicista si trova spontaneamente a scegliere delle arcate che funzionano meglio in questo arco, per cui il frasseggio spontaneamente diventa più aderente sicuramente a quello che quei compositori allora avevano accanto. Ottenere un buon arco è abbastanza complesso, è composto da un aspetto tecnico e anche da un aspetto artistico intuitivo come qualsiasi progetto che ha una componente artistica. L'unico modo di ottenere il massimo è in un lavoro totalmente personalizzato con la bachetta e con una presenza nel lavoro totale, dove non sto pensando a farne tanti, ma sto pensando a farne il meglio. L'unico modo di ottenere il massimo è in un'unico modo di ottenere il massimo.